Va bene, allora, vicino ai problemi delle... Ciao Anna Paola, siete elettorale dell'Odame, candidato al sindaco Mario Capuzzo, l'avvocato, mi conosco da tempo, Forza Italia, una donna che si mette in gioco, parlavamo prima della scuola, detto l'uno nel re ambito della scuola, che messaggio vogliamo dare alle donne, alla città, agli elettori? Sia la volta buona che una donna porta la voce di Dragnano e non solo il costume, sia la volta buona che riusciamo a fare qualcosa di costruttivo per Dragnano, iniziando proprio dalle scuole, quindi nel ruolo proprio di mamma, di insegnante, che ci sono molti, molti problematiche. E poi soprattutto rivalutare questa passeggiata ecologica, quella passeggiata ecologica che è quella magica della valle del Stato. Quindi rivalutare il territorio. Il territorio soprattutto. Quella valle dei Mulini che ci è stata tanto negata. Avevamo fatto tanto nella vecchia amministrazione di portarla avanti, ma è stato purtroppo poi buttato al vento. Quindi una maggiore partecipazione ai cittadini? Sì, ai cittadini, alla sensibilità proprio dei nostri monumenti, della nostra cultura e delle nostre radici. Abbiamo una festa, quella della Fronda del Calvo, che in realtà dura 15 giorni, ricca di persone, ricche di segmenti, diciamo di religione, ma anche tradizione. Quindi valorizzare queste cose. Di tradizioni, antiche tradizioni, che poi in realtà non è altro che la festa dei macorazioni, si volontari per l'europeo, quindi un comune all'attenzione dei partiti. Soprattutto all'Europa. Soprattutto all'Europa voglio rivolgere questo motto, perché finalmente Graniano è riconosciuta in Europa, proprio per il marco principale della base. e quindi perché non entrare con un bel volo, quindi valorizzare le tradizioni, le antiche mestiere, le antiche mestiere, quello della pasta, quello dei dinari, la voglia di combattere, di far sentire finalmente la voce di una donna che ha combattuto un consiglio di classe, ha combattuto per i figli, ha combattuto per i miei prossimi istituti, un po' che mi prenderò. Ti ringraziamo molto per la tua partecipazione, per la tua risposta. Grazie a voi per la fortissima. Bastagli il contropiede, la eposità non li usa, Gigi Menesca, Anna Paola Greco. E forza, mano da buzza, mezzo al cielo. Va bene, mezzo al cielo.